salve a tutti amici un saluto dal vostro corredo esposito personal trainer eccoci qua ragazzi oggi torniamo a parlare di Dalf Lundgren ovvero Ivan Drago, Ivan Drago di Creed, Ivan Drago di Rocky ha svolto la parte di Ivan Drago in diverse fasi attore eccezionale degli anni 80 e 90 di cui già abbiamo parlato in un video quando vi ho detto Ivan Drago era natural no effettivamente come sempre quando faccio questi video ci sta il fenomeno viene a scrivere no è natural tu che dici cavolate secondo me non si è mai preso gli steroidi perché vedono fisici oggi grossi uguali che magari veramente sono natural e ti dicono no però bisogna sempre capire il contesto negli anni 80 avere un fisico come quello di Dalf Lundgren era impossibile natural perché gli integratori erano quello che erano perché non c'era la ricerca di oggi quindi era impossibile e in più come potete vedere tanti di questi attori che hanno fatto uso di sostanze per fare i film ora stanno avendo problemi chi di un modo chi di un altro Ivan Drago appunto Dalf diversi tumori scoperti nel corpo Mr. T ha avuto problemi di salute e Van Damme ha avuto dipendenze dalle droghe perché poi come disse Nasser Elson Bati in un altro video che trovate sul canale quando si finisce a prendere gli steroidi molte volte si ha dipendenze poi dalle droghe perché uno cerca sollievo in quel modo là perciò come al solito ragazzi comunque prima di partire col video vi dico iscrivetevi al canale e lasciate un like Dalf Lundgren cosa ha fatto ha rilasciato un'intervista ultimamente dove parla della sua malattia del fatto che gli sono stati diagnosticati tutti questi tumori lui non si era sentito bene a seguito di alcuni controlli ogni volta che faceva un controllo approfondito sul corpo trovava tumori ai polmoni allo stomaco in diverse parti del corpo i medici gli avevano pronosticato pochi mesi di vita gli avevano detto non ce la farai con queste cure lui parla di questo e parla di come secondo lui questi tumori siano derivati dal dall'uso di steroidi negli anni in cui facevi film lui lo dice chiaramente dice ho fatto uso di steroidi quindi vedete come torna alle mie parole avevo detto che avrebbe che aveva fatto uso di steroidi che era chiaro lui disse negli anni 80 era normale quando volevi fare ruoli fisici dovevi fare uso di steroidi e lui disse anche quella che era la prassi dell'epoca la prassi che ha usato anche arnold stallone quando ci si avvicinava un film si facevano i cicli di steroidi infatti lui disse li prendevo solo quando facevo i film in base alla parte che dovevo svolgere facevo uso massiccio o no di steroidi ovvero se dovevo svolgere la parte di uno sempre vestito ne prendevo un po di meno se dovevo fare parti dove stava a petto nudo facevo del fisico e vi dico io erano tutte le parti che faceva adolf c'era la parte a petto nudo quindi li prendeva sempre facevo uso più intenso di steroidi dice rispetto a quello che prendono le persone oggi anche quelle che non fanno niente di che a livello agonistico era un uso esiguo però comunque ha potuto creare danni quindi sostanzialmente il suo discorso è stato quello mettiamoci anche che gli steroidi degli anni 80 non sono quelli di oggi perché adesso con la ricerca comunque le sostanze sono state migliorate ma come sono stati migliorati gli integratori ragazzi mi ricordo a inizio anni 2000 noi prendevamo integratori che poi sono stati anche vietati qua perché avevano sostanze che non erano pulite non erano erano nocive per il corpo quindi anche gli integratori sono cambiati figuriamoci gli steroidi quindi lui lo dice dice non abbiamo fatto nessuno uso spropositato di steroidi ci preparavamo per fare le gare cosa che oggi potresti fare natural ma vi dico anche tanti attori oggi sto vedendo l'altra volta quell'attore non mi ricordo se ha fatto capitano america uno ha fatto un supereroe è stato imbottito di steroidi tant'è che poi è andato in depressione ha avuto problemi mentali perché poi gli steroidi ragazzi non ti danno problemi solo fisici ti danno problemi anche psicologici e quindi lui dice sono convinto che l'uso di steroidi che ho fatto per tutta per tutta la buona parte degli anni 80 e 90 ha potuto creare questa situazione effettivamente poi lui racconta di come si sia salvato la vita in maniera assolutamente incredibile perché non volendosi rassegnare a morire così presto cerco consulto da una dottoressa che trova una cura ha trovato una cura che gli ha permesso di rimuovere questi tumori di farli retrocedere e effettivamente adesso lui dice ho una vita speranze di vita più lunghe posso vivere di più i tumori si stanno ritirando stanno scomparendo quindi probabilmente riuscirò a vivere più a lungo lui ha già 70 anni quindi il tempo vola io l'ho visto anche in un'intervista con schwarzenegger che parlava dell'argomento beh ragazzi un icono un mito lui dice sono contento di poterne parlare più persone possibili perché sono un attore sono seguito e effettivamente dalle mie parole molte persone si possono salvare e sull'uso di steroidi che fa capire non va fatto e anche sul controllarsi bene perché anche quando magari dei medici in maniera troppo evasiva ti danno per spacciato magari c'è possibilità di fare una cura questo dice dolf ed è il messaggio bello che voglio far passare anche in questo video se uno è malato c'è un grave problema di salute cercare tutte le strade perché magari la strada più impervia quella più insperata magari ti dà risultati e lui lo dice dice se non avessi fatto il consulto con quest'altra dottoressa sarei morto in tre mesi ed invece questo consulto mi ha permesso di allungare la mia vita adesso sto sotto controllo però diciamo che non ho più una morte impellente che mi sta per aggredire perché poi nell'intervista parla l'attuale fidanzata parla la figlia che è una bellissima ragazza aggiungo io si vede proprio che ha preso dal padre e sono state devastate pensate voi vi dicono una persona sta per morire una persona ancora giovane perché poi lui ha 70 anni ma non è che li dimostra una persona giovane una persona che è sempre stata atletica lui è stato un campione anche un campione è stato uno che si è dilettato bene anche nelle arti marziali quindi un atleta tutto tondo e niente questo questo video serve per farvi capire che bisogna sempre lottare anche quando vi danno poche speranze in qualsiasi ambito della vita ma anche per dirvi che quando faccio video dove parlo di gente che ha preso steroidi anche se non è ufficiale ma è evidente è inutile venite a scrivere ogni volta no non è vero qua l'abidi boda come abbiamo parlato dei wrestler quello è dopato quelle dopate mi venite a dire no non è vero cioè ragazzi è evidente quali sono i wrestler dopati quali sono quelli non dopati c'è pure chi si dopa e non ha risultati perché abbiamo visto pietro taricone che è uno che ha dichiarato lui di aver preso steroidi all'epoca e che non sembrava minimamente un fisico dopato ma lo stesso silvester stallone per me non è che abbia fatto questo uso estremo per quanto poi secondo me si è dopato più per raggiungere una massa magra enorme perché lui era magrissimo quando faceva rocky ma non effettivamente per crescere più di tanto perché abbiamo visto il suo fisico era sempre limitato ma l'ho visto anche io adesso ho seguito la serie di arnold schwarzenegger le tre puntate di documentario di arnold che vi che recensirò sul canale supercorriste gamer a breve e arnold dice c'è anche stallone 10 non sono mai voluto essere muscoloso come arnold e quelli troppo grossi io volevo sempre mantenere un fisico atletico ma anche molto mobile sul set perché mi piaceva essere molto molto veloce coinvolto in scene veloci in scambi veloci quindi molto più rispetto a un arnold che era arnold era molto più statico sul set quindi fatemi sapere che ne pensate ci vediamo nei prossimi video ciao aglio ciao